La ragazza a cui ieri è cattolica in un club il fidanzato ha staccato un orecchio con un morso è stata operata. L'intervento effettuato da chirurghi plastici diretti da Mariano Cordellini è stato realizzato all'ospedale di Assisi. Le è stato ricostruito interamente lo scheletro cartilagineo del padiglione auricolare. L'intervento è perfettamente riuscito e la donna, comunica la USL Umbria 1, recupererà perfettamente. Da quanto si è appreso dalla nazione di oggi sembra che il fatto sia avvenuto in un club per scambio di coppie. Sono in corso indagini dei carabinieri.